ciao a tutti da giusy bentornati o benvenuti sul canale grazie di cuore per il supporto qualcuno si chiederà che cosa è sul tavolo non lo so allora sulla carta si chiama secret bag l'ho acquistata 19 euro e 99 mi pare o è 90 ma è indifferente e dovrebbe avere una busta io ho trovato questa loro fondamentalmente non sanno quello che facciamo noi quindi al di là di appunto che non sanno quello che facciamo noi nello specifico che io vado a fare un unboxing scusate se vi ho mosso su internet su youtube nello specifico cioè non mi puoi mandare questa non è stato il corriere raga da prima busta ve lo assicuro perché era tutto ben imballato e poi questo non avrebbe neanche senso di esistere allora hanno messo tutto qua questa secret bag era avvolto tutto in questa carta assolutamente bocciata io manco scriverò neanche scriverò a pink panda semplicemente eviterò di frequentare pink panda tanto non mi cambia la vita c'è una cosa rotta tra le altre cose ve la faccio vedere subito allora non abbiamo neanche dico il gusto di dire che cosa c'è proviamo a pigliare niente allora c'è questo cos'è un eyeshadow ok un ombretto di mayani come vedete è rotto nella colorazione life io sono sconvolta non so che cosa dirvi raga io neanche neanche scrivo a pink panda però sono 19 euro e 99 non mi ricordo mai più pink panda io così li ho trovati cioè poi illuminante di mayani non poteva mancare rosato nella colorazione eclipse credo che questo sia passato parecchie volte nelle mystery box o quello che devo essere felice scusate per aspettate che non ho capito cos'è però e non dovrebbe essere un elastico per capelli però non vorrei che fosse un braccialetto è un elastico per capelli ok vediamo un po se si apre la mia gioia no vabbè raga tu quando fai un acquisto che fondamentalmente dico io non lo so non so perché ho cliccato sul perché non era obbligatorio acquistarla ecco ok si apre così no vabbè è un attentato questo allora io consiglierei alle ragazzine di far così e lasciarlo usato come bracciale questo raga va a tagliare i capelli ok allora andiamo avanti c'è uno smaltino ok c'è uno smaltino blu notte però non c'è non è non non si con c'è una mister di una secret bag deve avere appunto una scatola poi c'è un eyeliner di waibo nella colorazione black volete che ve lo provi cioè io lo aprerei tanto dico questo sarà tutto decluttering al mio paese c'è ancora prima di iniziare sì ok scusate non vabbè lo scrive ma che cavolo che c'è scaccia non l'ho capito sono nervosa raga tra le altre cose perché non si può ricevere c'è spendere per avere le cose così allora poi c'è una palette planet revolution ha una palette per il viso che è bello quindi immagino dei non lo so spero di blush spero del blush ok ok calma aspettate che copriamo no non c'è lo specchio calma no vabbè questo è da contouring è tutto molto credo è tutto molto luminoso cioè ci sono i brillantini noi che raga io sono delusa da vedere sta carta così c'è no non mi piace sta cosa magari avranno messo qualcosa in più e il valore di tutto è più di 20 euro ma a me non interessa il principio che conta quindi allora questa è la palette qualcuno interessato no sto scherzando ovviamente qua non si vende nulla lo ricordo ve lo ricordo ormai vabbè sono passati le uova di pasqua planet revolution e ho appena visto perché ho appena girato un altro video ho avuto difficoltà con un prodotto e il prodotto è rotto ecco perché allora lo vedrete successivamente su questi canali poi c'è un di planet revolution quindi è la skin cara di revolution questo è un gel idratante per il viso una crema per il viso idratante sotto forma di gel da 50 ml il mio entusiasmo credo che si percepisca da no perché veramente tanta skin care al di là ma che magari costa tanto però dico con tutto il rispetto c'è mettevi una bustina anche con due ciofeghe però non così allora revolution skin care london vabbè scusa giusi che ok è un vitamina c glò è molto glò è un fatte la pesca scusate è una crema per il corpo da 200 ml tra le altre cose con vitamina c e burro di karité quindi dovrebbe illuminare ed essere anche idratante cioè già la prima cosa che mi sta piacere allora intanto non è sigillata e questa cosa mi piace l'odore non mi piace granché sa tipo di arancia ma arancia tipo no vabbè io non la userò ora che ve lo dico che delusione no perché chi ha visto il video precedente avrà visto un'altra delusione cioè no allora le creme che io sappia tutte le creme non vorrei che fossero delle rimanenze che mi ha messo qua così delle dei prodotti che ha ritornato qualcuno che io sappia le creme cioè poi in full size 200 ml è una full size sono sigillate nel barattolino e poi l'odore anche no ciao io non ho parole pink panda prossima volta non mettere neanche la carta anche perché dico carta non c'è più a c'è una cosa bellissima va bene quindi adesso abbiamo fatto adesso riconosciamo che pink panda ok c'è il lip gloss ovviamente mini size di pink panda ve lo faccio vedere questo è sigillato dico questo volete sapere a fine che fa però non è giusto cioè fondamentalmente su acquisti qualcosa allora i forbici io non ce l'ho più perché l'ho posato ho detto tanto qua non hai bisogno di forbici però è una plastichina in fondo si dovrebbe di cui faccio vedere la colorazione allora io non acquisterò più non aspettatevi su questo canale ste cose perché anche no poi loro mettono tanto pleriball c'era tanto pleriball negli acquisti che ho fatto di cui avete visto nel video precedente è un aranciato che bello lo possiamo mettere tutto se volete tanto questo doveva allora ok è un aranciato fosse stato rosato però dico io l'avrei pagato pink panda allora poi ci sono altri due prodotti skin care possa immaginare hydro bank a banca allora è una maschera notturna per il viso in full size perché sono 50 ml questa mi incuriosisce al di là del fatto che magari la proverò poi non mi piacerà questo non importa però questa mi incuriosisce vediamo se sigillata questa è sigillata ecco vedi questa è sigillata quella no quindi quella mi fa pensare male quella non doveva neanche essere sigillata con questo ma anche con tipo l'alluminio quelle cartine sopra questa già ti da io l'aprirei però perché non si sa mai non mi fido più di nessuno allora vediamo un po molto gelatinosa molto gelatinosa sicuramente molto rinfrescante sento 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 appunto la mano fresca fa anche un buon odore questa vedi ti sei riscattato pink panda fa anche un buon odore se poi è un'ottima maschera notturna ve lo farò sapere tanto voi sapete che io sono quella delle maschere se delle maschere notturne allora questa fa un ottimo odore questa qua raga io voglio dire cose però sembra arancia moffi ok quello è l'odore quella non la userò questa la userò e vi farò sapere questa mi è piaciuta allora questo è un siero è un no è un è una base è un primer che abbiamo trovato anche della prima che ha visto il video prima non era così quello era nostro formato ok questo è un primer alle tipo delle perlescenze quindi dovrebbe illuminare quindi xx revolution e planet revolution sono linee nuove skin care di revolution anche questo freschissimo questo credo che illumini perché fondamentalmente ai glitterini quindi boh c'è molto glitter non lo so questo è da provare è un primer ok ma si dovrebbe anche asciugare di norma allora io sono super delusa perché se c'è scritto secret bag dove a carta perché non vorrei che qualcuno poi dicesse che ci hai fatto vedere la bolla allora dove raga scusate la privacy la privacy ok secret bag 1 19 euro e 99 quella sopra è la hello spring c'è la mystery bag che insomma è stata che ovviamente vale 0 centesimi cioè costa 0 centesimi perché ho fatto degli acquisti allora io super delusa perché non mi puoi mandare la secret bag le abbiamo già aperte ed erano nella scatola non c'erano tutti questi prodotti però se fondamentalmente il mood ti diamo più prodotti e quindi sei più contenta no perché giusi non è di questo mood non voglio niente regalato cioè mi fatta secret bag come voi sapete fare anche perché questo è arrivato rotto dico mi interessa poco che lo sapete cosa ne penso di refill questo si può questa fa un odore orrendo ed è anche non è sigillata quindi io non ci penso proprio la maschera notturna la proverò questo non credo c'è nel senso che ho tanti primer e non credo di scomodare questo però un giorno lo voglio provare e capire poi che cos'altro abbiamo trovato questo che non può mancare ok il lip gloss di marchio pink panda questa qua che è una palette per le visace ma troppe glitterini ci sono troppo glitterata questa non è nel mio mood e poi questa crema idratante che dico vabbè da 50 ml lo smaltino blu notte ok poi di waibo questo eyeliner che io anche no questo raga usatelo come braccialetto carino da vedere ma non come elastico per i capelli allora ve lo dice una che utilizzava elastici per i capelli ad cavulum e poi e poi e poi e poi allora questo sempre di maiani è un eyeliner scusate è un illuminante in formato refill allora raga a me non è piaciuto il mood al di là dei prodotti proprio che prodotti ti possono piacere ti possono non piacere perché appunto la mystery bag come si chiama una secret bag appunto c'è scritto secret non lo sai quello che trovi io non voglio trovarlo in questa carta così no mi dispiace quindi per me assolutamente bocciata fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate io ma neanche scrivo a pink panda cioè oramai ciao ok io vi ringrazio per la pazienza sono 14 minuti che parlo e vi mando un bacio un abbraccio spero che il video sia stato gradito lo stesso io raga questo ricevuto e questo vi ho fatto vedere ciao da giusy se vi va iscrivetevi grazie di cuore al canale intendo ciao ciao